Oggi l'insegnamento che è in crisi, io sono personalmente per quello che può contare, quel pochissimo, contrario soprattutto a tutto quello che sono i tagli alla cultura e all'insegnamento. E quanto ha risposto alla stampa Andrea Camilleri alla domanda sullo stato di salute dell'Università Italiana. Lo scrittore ha incontrato i giornalisti in rettorato poco prima della cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2012-2013. I tagli alla cultura, i tagli all'istruzione hanno un seguito nell'avvenire, cioè negli anni che devono venire e se noi gli eleviamo oltre al lavoro anche la possibilità dello studio ulteriore, beh, voglio sapere dove andiamo a finire. Grazie a tutti.